benvenuto nel canale youtube di fratelli e sorelle preghiamo dona il tuo mi piace a questo video e iscriviti al nostro canale in questa preghiera video chiediamo l'intercessione del beato Carlo acutis per ricevere la grazia di cui è urgente bisogno o mio signore grazie per averci donato Carlo acutis vero modello di vita per i giovani e messaggio di speranza e di amore per tutti noi fedeli tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio gesù facendo dell'eucarestia la sua autostrada per il cielo tu gli ha offerto Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un messaggero della sua innocenza accogli la sua preghiera per noi guarda soprattutto alle persone povere che egli ha amato e soccorso durante la sua breve vita terrena anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui è urgente bisogno e rendi piena la nostra gioia inserendo Carlo acutis tra i beati della tua santa chiesa perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome amen per rendere ancora più potente questa supplica di intercessione recitiamo insieme il padre nostro l'ave maria e il gloria al santo padre padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli amen prima di guardare un altro video consigliato di fratelli e sorelle preghiamo ti invitiamo a mettere mi piace a questo video e a iscriverti al nostro canale youtube iscriverti al nostro canale youtube